La realizzazione dell'impianto di vigneto costituisce un vero e proprio investimento per l'azienda agricola che nel caso in cui questo investimento venga realizzato utilizzando fattori produttivi primari apportati direttamente dall'imprenditore in primisi il lavoro è considerato un investimento in economia e naturalmente un investimento da ammortizzare annualmente su una durata che presumibilmente per il vigneto dovrebbe aggirarsi almeno intorno ai 30 anni e questo ammortamento poi verrà contabilizzato nel costo di coltivazione del vigneto stesso. Si tratta di un investimento pluriennale perché per essere realizzato l'impianto occorre lavorare per almeno i primi tre anni solo allo scopo di realizzare l'investimento stesso e quindi l'investimento è di tipo pluriennale. La valutazione del costo dell'impianto del vigneto rappresenta un bilancio parziale in cui alcuni input quelli acquisiti dal mercato possono essere valutati in modo oggettivo quantificando esattamente i costi sopportati per acquisire questi input dal mercato. Per quanto riguarda invece i fattori apportati dall'imprenditore è necessario attribuire loro dei valori che normalmente vengono fissati in modo convenzionale ma anche in modo anche un po' soggettivo e arbitrario tenendo conto di quelle che sono le aspettative di remunerazione da parte dell'imprenditore stesso. Infine in questo modello di conteggio che noi proponiamo le macchine utilizzate vengono considerate in proprietà e pertanto i costi legati alle macchine non vengono ipotizzati come corrispondenti alle tariffe praticate dal conto terzista che arriva dall'esterno in azienda ed esegue le lavorazioni ma vengono proprio calcolati tenendo conto che le macchine sono in proprietà e pertanto hanno un loro costo orario che dipende fortemente dal numero di ore durante l'anno nelle quali le macchine stesse vengono utilizzate. Come vedremo in una video lezione dedicata i costi delle macchine originano a loro volta da un altro bilancio parziale che tiene conto di varie componenti di costi fissi annui legati agli interessi calcolati sul capitale macchina investito, le quote di reintegrazione, di manutenzione e di assicurazione gravanti sulle macchine stesse e il costo annuo per l'uso del locale di ricovero legato alle macchine necessario per le macchine che a sua volta è un costo che è un costo che tiene conto degli interessi sul capitale mediamente sborsato per realizzare il fabbricato e le quote di reintegrazione, manutenzione e assicurazione sul fabbricato stesso. Per avviare la stima del costo di impianto è necessario procedere seguendo una linea logica. Innanzitutto è necessario definire le diverse fasi richieste dall'impianto dettagliando il momento in cui le diverse fasi hanno luogo, tutti gli input richiesti da ciascuna fase e soprattutto definire le ore di lavoro manuale e le ore di lavoro macchine richieste all'interno di ogni azione, di ogni fase culturale. Ricordiamo che nel caso dell'impianto a Goyot sarà necessario seguire questa procedura per i primi tre anni. Successivamente è necessario procedere al calcolo del costo orario di ciascuna macchina in proprietà escludendo il consumo di carburanti di lubrificanti che verranno conteggiati all'interno della voce spese varie che riguarda i costi per i fattori a logorio totale. Per quanto riguarda il calcolo del costo orario di ciascuna macchina c'è una video lezione dedicata e a questo io rimando. Una volta definito il centro di costo che per il vigneto come per qualunque altro processo culturale vegetale e lettero di superficie sarà necessario definire il sesto di impianto cioè la distanza tra i filari e la distanza delle barbatelle all'interno di ciascuna fila in modo da capire anche l'esigenza numerica di barbatelle da utilizzare per l'impianto e infine definire un quadro contabile in cui vengano rappresentate in modo corretto e preciso tutte le voci di costo che abbiamo appena visto costituire la base di calcolo per il costo di impianto. Da questo punto di vista possiamo ancora sottolineare che il costo dei diversi fattori produttivi assoggettabili a IVA possono essere determinati IVA inclusa o IVA esclusa. L'approccio nel caso di imprese agricole piccole prevalentemente part-time oppure di imprese agricole professionali full-time può essere abbastanza diverso in quanto le imprese agricole professionali utilizzano un regime IVA sia questo il regime speciale agricolo oppure il regime generale che permette di scaricare dai costi sostenuti l'IVA pagata sui fattori produttivi e quindi da questo punto di vista per le imprese professionali può avere un senso calcolare il costo di impianto IVA inclusa ma per quanto riguarda le imprese molto piccole che operano in regime di esonero e questa è una condizione molto frequente in ambito montano alpino per quanto riguarda le aziende con vigneto può avere più senso calcolare il costo di impianto IVA inclusa proprio perché nel caso di regime di esonero non è possibile recuperare l'IVA sostenuta sui fattori produttivi e quindi questo sarà il modello che noi utilizzeremo nelle prossime slide. Un piccolo focus sulle operazioni manuali richieste dall'impianto stesso. Intanto si deve procedere con uno scasso totale che porta a una lavorazione del terreno fino a 80-100 cm durante la quale eventualmente è necessario procedere anche uno spietramento. Generalmente per lo scasso totale vengono chiamati degli operatori specializzati che hanno delle macchine particolari per realizzare questa opera in quanto è importante appunto disporre di macchinari specifici. Segue la concimazione di fondo che generalmente viene effettuata con il letame, poi bisogna procedere a una squadratura e un allineamento dei pali lungo i filari, dopodiché si procede a picchettare i pali stessi con i pali di testa, i pali intermedi eccetera, gli ancoraggi e infine si preparano le buche per accogliere successivamente le barbatelle e contemporaneamente si procede alla stesura e al tensionamento dei fili. Dopodiché le barbatelle vengono posate, si procede a un'eventuale irrigazione di soccorso per facilitare l'attecchimento delle barbatelle stesse e infine diciamo a impianto ultimato seguono poi le normali operazioni culturali che vengono effettuate sul vigneto e che prevedono in tempi differenti le diverse potature, le legature, la pulizia del filare rispetto all'erba perché normalmente i filari ormai in buona parte vengono lasciati inerbiti ma è necessario procedere allo sfalcio, la pulizia degli interceppi sempre per liberare il terreno dalle piante infestanti e l'esecuzione dei diversi trattamenti che durante il ciclo vegetativo della pianta saranno necessari. Naturalmente le piccole dimensioni dei vigneti che tipicamente caratterizzano l'ambiente viticolo montano sono generatori di tempi di lavoro estremamente più lunghi rispetto ad altri ambiti culturali soprattutto perché in determinati contesti la meccanizzazione risulta estremamente difficile da praticare. E veniamo all'applicazione del modello di stima. Quindi con riferimento ai primi tre anni del ciclo vegetativo del vigneto si dovranno determinare tutte queste diverse voci di costo, i costi legati ai fattori produttivi e logorio totale, i costi legati all'utilizzo delle macchine, le imposte e gravanti sul vigneto, il costo del lavoro fornito dall'imprenditore per realizzare le diverse fasi culturali, la remunerazione del capitale fondiario impegnato dal vigneto e la remunerazione del capitale anticipato nei tre anni di ciclo vegetativo per la realizzazione del vigneto stesso. Per quanto riguarda le imposte va sottolineata che l'unica imposta gravante sui terreni agricoli e che potenzialmente potrebbe colpire le aziende agricole al momento, cioè l'IMU, al momento non è applicata in quanto l'ultima legge di stabilità, quella del 2020, ha ribadito che i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali sono esenti da questa imposta. Un'ultima precisazione è che il caso qui presentato stima il costo di impianto di un ettaro di guio IVA inclusa. In questa slide e nelle due successive sono stati sintetizzati tutti i costi sostenuti nel primo, nel secondo e nel terzo anno di impianto. Per quanto riguarda le spese varie, nel primo anno di impianto le spese varie hanno la massima incidenza perché è necessario acquisire tutti quei materiali per la messa in opera, cominciare dai pali di testate, i pali intermedi, i tiranti, i fili, i tutori e quanto necessario per eseguire l'impianto incluse le barbatelle legate al sesto di impianto utilizzato. Come vedete per quanto riguarda lo scasso del terreno è stato ipotizzato il ricorso e l'unico caso in cui si è ipotizzato il ricorso a un contoterzista perché questa lavorazione profonda sul terreno deve essere eseguita utilizzando delle macchine particolari specifiche e per questa ragione nella maggior parte dei casi le aziende piccole aziende di montagna ricorrono al contoterzista. Sempre all'interno delle spese varie troviamo poi tutti i materiali utilizzati per la realizzazione dell'impianto di irrigazione. Questo impianto ultimamente viene realizzato dai viticoltori di montagna, di Vale d'Aosta in modo particolare perché ci si è resi conto che le condizioni climatiche spesso sono tali da richiedere dell'irrigazione di soccorso soprattutto nella fase di impianto per facilitare l'attecchimento delle barbatelle e quindi anche la realizzazione di questo impianto di irrigazione di soccorso ha come vedete un suo determinato costo abbastanza consistente. Infine nelle spese varie sono stati inclusi i prodotti chimici utilizzati per i trattamenti fitosanitari e i trattamenti di diserbo richiesti dalla gestione del vigneto stesso. Per quanto riguarda inoltre il consumo di carburanti, il costo legato ai carburanti utilizzati è stato incluso nelle spese varie, valutandoli sulla base di un ipotetico consumo orario di gasolio e di benzina richiesti dalle diverse attrezzature. Per quanto riguarda la trattrice noi abbiamo ipotizzato un consumo orario di gasolio di 9,5 litri all'ora anche se in effetti questo dato dipende molto dalla potenza della trattrice e dalle operazioni che la trattrice va a svolgere. Diciamo che sulla base della letteratura presente, della bibliografia e anche delle informazioni che ciascun viticoltore è in grado di disporre per la propria trattrice, questo dato non è così, può non essere così complicato da stimare. Per quanto riguarda invece il costo delle macchine come abbiamo già detto questi costi sono stati valutati in termini orari tenendo conto facendo delle ipotesi di impiego annuo orario di ciascun tipo di macchina. Il lavoro umano familiare è stato valutato a 10 euro l'ora comprensivo di contributi IMS e cioè in questi 10 euro si è ipotizzata una remunerazione netta per l'ora di lavoro pari a 9 euro più un euro ora di costo contributivo orario. La remunerazione del capitale fondiario impegnato nel vigneto e la remunerazione per il capitale mediamente anticipato sono stati valutati in termini di interessi sui capitali impegnati. Il tasso di interesse rappresenta l'entità della remunerazione e come verrà meglio commentato nella slide successiva si differenzia tra il capitale fondiario e il capitale agrario anzi il capitale di anticipazione. Per quanto riguarda il capitale di anticipazione che qui risulta piuttosto consistente questo valore di circa 65 mila euro di capitale di anticipazione è stato stimato a partire dal capitale circolante. Il capitale circolante è dato dalla somma degli sborsi effettivamente sostenuti nel corso dell'anno di impianto in questo caso del primo anno di impianto moltiplicato per un periodo medio di anticipazione che nel solo caso del primo anno di impianto è stato valutato in 8 dodicesimi mentre negli altri due anni di impianto è stato valutato pari a 6 dodicesimi. Questa differenza per il primo anno di impianto è legato al fatto che la maggior parte dei costi sostenuti per l'impianto stesso e che sono fortemente legati ai materiali vari alle barbatelle e all'impianto di irrigazione che sono tutti i costi da sostenere molto concentrati all'inizio dell'impianto stesso fanno sì che il periodo medio di anticipazione si allunghi rispetto ai due anni successivi. Allora una precisazione per quanto riguarda questa voce dpi che non ho commentato prima si tratta dei dispositivi di protezione individuale tuta guanti calzare e quant'altro è necessario indossare da parte dell'operatore che procede ai trattamenti chimici di diserbo e di trattamento fitosanitario si tratta di dispositivi che devono essere sostituiti ogni volta che si effettua un trattamento e che quindi hanno un certo loro costo. Poi una precisazione che riguarda il beneficio fondiario sul vigneto e gli interessi sul capitale mediamente anticipato in ciascun anno culturale si tratta di due forme di immobilizzo caratterizzate da da un grado di rischiosità diverso che porta a utilizzare tassi di interesse diversi all'1 per cento per quanto riguarda la remunerazione del capitale fondiario impegnato e al 4 per cento per quanto riguarda il capitale mediamente anticipato questo perché nel capitale mediamente anticipato se qualcosa dovesse andare storto nel corso dell'annata anche solo legato all'andamento climatico eccetera una gelata che faccia che impedisca sostanzialmente l'attecchimento e l'insieme delle che renda sostanzialmente che vada a incidere negativamente su tutto il ciclo culturale ovviamente questo tipo di impegno finanziario è sottoposto a un rischio molto più elevato e quindi un impegno finanziario molto più aleatorio che richiede un tasso di interesse decisamente più elevato rispetto all'investimento nel capitale fondiario. Quindi alla fine vedete che nel corso del secondo anno vengono sostenuti dei costi che naturalmente sono notevolmente più bassi rispetto al primo anno proprio perché non ci sono più tutto non c'è più tutto quel blocco di componenti che finiscono nelle spese varie legati proprio all'impianto stesso. e lo schema di calcolo applicato al terzo anno di impianto è assolutamente identico agli schemi che abbiamo visto per i primi due anni. Alla fine il costo totale dell'impianto dovrà risultare quale somma dei costi sostenuti nei diversi anni C1, C2, C3. Tuttavia il fatto di aver sostenuto questi costi in anni diversi richiede ai fini della somma un procedimento di somma finanziaria che viene realizzata moltiplicando il costo sostenuto in ciascun anno per un coefficiente che in questo caso è un coefficiente di anticipazione che riporta i costi sostenuti nei tre diversi anni tutti allo stesso momento finanziario cioè al momento zero. Pertanto nel caso di un vigneto a Gouillot questa procedura di somma finanziaria conduce a un importo di investimento che si aggira intorno ai 97 mila euro a ettaro. In questa slide abbiamo cercato di mettere a confronto il costo dell'investimento senza aiuti pubblici cioè senza un intervento pubblico legato all'applicazione del piano di sviluppo rurale sul costo dell'impianto rispetto invece al costo che teoricamente l'imprenditore si troverebbe a sostenere in presenza di contributi pubblici legati appunto al piano di sviluppo rurale. Per quanto riguarda l'ultima programmazione in Valle d'Aosta legate alle macchine il contributo pubblico si è aggirato intorno al 40% dell'importo dell'investimento in macchine IVA esclusa mentre riguardo i fabbricati e alla realizzazione dell'impianto di vigneto questo contributo sale al 50% dell'importo sempre IVA esclusa quindi a beneficio dell'imprenditore agricolo questi importi vengono sempre calcolati sul valore dell'investimento IVA esclusa. E quindi come abbiamo visto prima valutando il costo totale dell'impianto senza aiuti pubblici IVA incluso questo costo si aggira come dicevo prima intorno ai 97 mila euro per ettaro. Ipotizzando che l'imprenditore agricolo possa fruire di aiuti pubblici sia per quanto riguarda l'acquisizione delle macchine sia per quanto riguarda la realizzazione del fabbricato necessario al ricovero e ai costi legati all'impianto di vigneto l'esborso teorico IVA inclusa a carico dell'imprenditore scenderebbe a circa a poco più di 67 mila euro in base alle nostre stime con un risparmio quindi di oltre il 30%. Naturalmente questa riduzione rispetto all'entità degli importi riconosciuti alle macchine e ai miglioramenti fondiari sono legati al fatto che appunto le percentuali viste si riferiscono agli importi degli investimenti IVA esclusa perché l'IVA rimane totalmente a carico del beneficiario. Tutto sommato comunque si tratta di un aiuto che produce un effetto non trascurabile sull'investimento. Naturalmente come dicevo prima il costo dell'investimento serve per quantificare la quota annua di ammortamento, la quota di reintegrazione che poi deve essere inserita volendo fare un bilancio sul processo vigneto e quindi sul ciclo culturale del vigneto occorre tener conto di questa quota annua di ammortamento che ipotizzando una durata del vigneto intorno ai 30 anni diviene un valore che teoricamente senza aiuto pubblico e IVA si aggira intorno a 3250 euro l'anno mentre l'ammortamento tenendo conto del potenziale aiuto pubblico scende a circa 2250 euro all'anno realizzando sempre un risparmio come per quanto riguarda l'entità dell'investimento di oltre il 30%. è stato illattamente per quanto riguarda l'av희 Grazie a tutti.